Le novità del 2010 sono incentrate principalmente sulla formazione delle agenzie di viaggi, siamo appena tornati da un rush show formativo, ha toccato tre tappe, la prima a Palermo lunedì, la seconda a Roma, la terza a Genova abbiamo incontrato circa 400 agenti di viaggio, perché riteniamo che per il prossimo anno la formula vincente sia la formazione principalmente, quindi dare agli agenti di viaggio un supporto in termini di conoscenza di prodotto, è un momento un po' difficile, noi fortunatamente, e lo dico senza produzione, continuiamo comunque ad avere i numeri che ci confortano, quindi aumenta la credibilità delle agenzie nei confronti dei prodotti per viaggiare, la fascia di clientela che ritiene che il nostro prodotto sia all'altezza, quindi le agenzie che ci hanno fiducia hanno la necessità di avere conoscenza di prodotto, purtroppo non si può pensare di investire su Educational per un numero illimitato di agenzie, quindi abbiamo preferito per alcune situazioni puntare sulla formazione. Le novità del 2010 sono attinente principalmente ad alcune operazioni spot con i nostri partner, quindi monografie dedicate a singole catene alberghiere, la presenza fieristica relativa al TTG quest'anno è il più grande impegno che abbiamo preso, per il semplice motivo che dovevamo dare un segnale di affidabilità, un momento un po' difficile, storicamente di grande difficoltà, contrazione del mercato, economicamente operatori che stanno soffrendo, dare un segnale di credibilità ritenevamo che sia vincente perché è uno dei punti di forza che in questo momento le agenzie stanno cercando. Abbiamo per il prossimo anno l'idea di dover poter cominciare ad incontrare le agenzie di viaggio presso la nostra sede, abbiamo inaugurato i nostri nuovi uffici di 500 metri quadrati, quindi nella formazione relativa a Eroshow abbiamo puntato su una formazione in sede, quindi per dare un segnale un po' più diretto, far venire gli agenti di viaggio a casa nostra. Siamo un'azienda giovane, dinamica, forse il nostro punto di forza è proprio che veniamo dal banco, quindi conosciamo le esigenze dell'agenzia. Io per 14 anni ho fatto l'agente di viaggio come il 70% del nostro staff, principalmente dedicato ai reparti operativi, quindi booking o la stessa direzione, la stessa proprietà, quindi questo è il nostro punto di forza, quello di conoscere le esigenze del cliente, cliente inteso come agenzie di viaggi, quindi conoscere la difficoltà di avere un cliente davanti, conoscere le tempistiche di risposte, la personalizzazione dei preventivi, riteniamo che questa sia la formula vincente, la formula che ci ha premiato fino ad ora e speriamo che continuerà a premiarci nel tempo.